Il grande successo della decima edizione del Trofeo Pischè o Memoria al Mirko Laganà ha ampiamente premiato gli sforzi prodotti dall'organizzazione. La Kermessa, andata in scena nella piscina della cittadella sportiva universitaria dell'Annunziata, a nuova location designata, ha regalato due intense giornate di sport, richiamando ben 1023 atleti in rappresentanza di 40 società. Numeri da record per un evento divenuto negli anni tra i più importanti a livello nazionale e non solo. La voglia di stare assieme nel ricordo di Mirko, inoltre, risultata più forte anche delle cattive condizioni climatiche che avevano caratterizzato soprattutto il primo giorno di gare. A dominare è stata la Poseidon Catania, capace di centrare un prestigioso poker di affermazioni, aggiudicandosi il decimo trofeo Pischè o consecutivo, la gara Pischè o dei 50 d'Orso con il 24enne Angelo Sciacca e l'australiana, grazie all'azzurro Gianluca Maglia e dalla talentuosa Giada Mammola. Maglia che conosceva bene Mirko, del quale conserva un grandissimo ricordo, si è imposto anche nei 100 e 200 stile libero. Nella speciale classifica riservata alle squadre, la Poseidon è salita sul gradino più alto del podio in virtù dei 995 punti totalizzati, in maggior parte con le categorie ragazze e unica. Alle sue spalle si sono piazzate nell'ordine la polisportiva Nadir, la Sicilia Nuoto, la Power Team Messina e il Team Nuoto Siracusa. La manifestazione, organizzata dalla SD Pischè o Team, in stretta collaborazione con il Cus Unime, non ha dunque tradito le attese, regalando emozioni forti. Segno della grande e contagiosa passione trasmessa dalla signora Grazia Lagana e dal suo staff. L'appuntamento adesso è già fissato per il 2015.